Smantellata un'associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, attiva anche durante il lockdown a Napoli. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare. A finire agli arresti per effetto della misura cautelare, 10 persone di cui 6 in carcere e 4 ai domiciliari. Gli inquirenti ritengono gli indagati, gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. A coordinare l'attività investigativa, condotta dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Bagnoli, la direzione distrettuale antimafia partenopea. Le indagini hanno documentato l'esistenza nel quartiere Soccavo e precisamente nel rione Traiano, di un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti di vario genere. Il sodalizio criminale, che smerciava cocaina, marijuana e hashish, era attivo anche durante il periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.